I numeri non li sopporto più, la matematica che mi perseguita. In eccellenza 7 sono i risultati utili consecutivi della Virtus Avellino di Mr. Rino Criscitiello. I biancoverdi nelle ultime 7 gare disputate hanno agguantato 4 vittorie e 3 pareggi, numeri che fanno ripensare alla stagione da record portata a termine lo scorso anno. 25 invece sono i gol dell'Agropoli che detiene il primato sia dei punti, 23 sia di gol. La compagine bianco-celeste nonostante le ultime uscite altalenanti sta rispettando i pronostici di inizio campionato. In promozione a brillare sono i 17 punti dell'FC Avellino. La squadra di Mr. De Luca gioca a calcio, si diverte e macina punti partita dopo partita. Quarto migliore attacco del campionato, il rosa più giovane della categoria. Infine, 1 è il numero di sconfitte della Testugine Grotta. I ragazzi di Mr. Ferraro stanno rispettando i pronostici del precampionato e dopo domenica comandano da soli la classifica del Cirone C di promozione.